Bene ragazzi, in questo esercizio utilizzeremo l'equazione di gas perfetti per riuscire a trovare tutte le quantità di interesse. Studiamo il caso. Allora, abbiamo sostanzialmente due trasformazioni. La trasformazione che va da A a B, che sappiamo benissimo essere un'isobara, perché è pressione costante, e invece una trasformazione che va da B a C, che attenzione è quella nera, che non è una trasformazione studiata fino ad ora. Nel senso che non è un'isoterma, non è un'isocora e non è un'isobara. Però B e C hanno qualcosa in comune, perché vedete la linea blu? La linea blu è un'isoterma, quindi vuol dire che tutti i suoi punti sono alla stessa temperatura. B e C, quindi, stando sulla stessa isoterma, hanno la stessa temperatura. Bene. Allora, io dello stato A conosco pressione-volume. Poi, i dati mi dicono che la temperatura in B è di 400 Kelvin, e poi mi viene detto anche che la pressione in C vale i 5 mezzi della pressione in A. In più, so anche che durante la trasformazione il gas non perde e non acquista massa, e il suo numero di moli rimane uguale a 2. La domanda è come faccio a trovare pressione-volume-temperatura di A, di B e di C. Beh, la prima cosa, ragazzi, è fare la tabella in cui sono presenti tutti i dati, in cui cerchiamo di inserire tutti i dati di pressione-volume-temperatura che conosciamo fino ad ora. Allora, vi suggerisco di farla sempre, questa cosa qua. Una cosa, poiché nell'equazione dei gas perfetti si devono utilizzare le unità di misura del sistema internazionale, allora è meglio già fare le equivalenze. Nel senso che, se poi noi andiamo a scrivere, ad esempio, nelle pressione di A un'atmosfera, poi sbagliamo a fare i conti. Quindi, beh, noi sappiamo che un'atmosfera sono 101.325 pascal, e allora vado a scrivere questo numero. Quindi la pressione la metto in pascal con la precisione dell'unità, quindi 101.325. Poi, sappiamo anche la pressione in B? Sì, perché è uguale. Poi, di A sappiamo qualcos'altro? Sì, di A sappiamo il volume. Allora, ragazzi, i litri non sono un'unità giusta, e vi ricordo che un litro è 10 alla meno 3 metri cubi, quindi anche il volume lo metteremo in metri cubi. Quindi, il volume di A è 25 per 10 alla meno 3. Poi, di A sappiamo nient'altro, di B sappiamo anche la temperatura, quindi temperatura rigorosamente in Kelvin, 400. E poi, di C, ragazzi, sappiamo la pressione, perché, visto che è 5 mezzi, a me basta fare 2,5 per 101.325, che viene 253.312. Tengo come ultima cifra l'unità. Bene, allora, cosa possiamo fare? Ma, ad esempio, io vedo che è possibile, ad esempio, fare le leggi di conservazione per A e per B? No, perché ci manca sia il volume, sia la temperatura, il volume di B e la temperatura di A. Quindi non possiamo fare il famoso V su T uguale a V su T. Ci manca troppo, vero ragazzi? Però noi abbiamo ancora utilizzato un dato, il numero di moli. Grazie al numero di moli possiamo, ad esempio, trovare la temperatura di A e anche il volume di B. Questo perché? È perché io, per quanto riguarda lo stato A, utilizzo PV uguale a nRT. Quindi PV uguale a nRT, non metto il pedice in A perché n rimane costante, RTA. PV uguale a nRT. Devo trovare la temperatura A? Va bene, divido di qua e di là per nR. Quindi viene che la temperatura in A è PAV A fratto nR. Quindi io conoscevo tutto dello stato A tranne la temperatura e quindi me la vado a trovare. Inserisco i numeri, quindi 101.325 per 25 per 10 al meno 3 fratto n che è 2 per R che vale 8.314 e risulta una cosa automaticamente in Kelvin e la andiamo a mettere qua. Bene, ora come posso trovare ragazzi il volume in B? In due modi. O applico la legge della isobara oppure utilizzo ancora la legge PV uguale a B. ad nRT ma per quanto riguarda lo stato in B. Nel senso che adesso io conosco tutto. Quindi lo stato è in B. Mi manca VB e quindi VB non è nient'altro che nRTB fratto PB quindi N fa 2 R fa 8.314 TB ce l'ho fa 400 vedete la bellezza di avere una tabella? Fratto PB 101.325 So che già otterrò qualcosa in metri cubi e lo esprimerò in 10 alla meno 3 così da essere coerente con gli altri. Viene allora, beh posso anche esprimere così, 0,0656 se moltiplico per 1000 ho la mia scrittura quindi 65,64 per 10 alla meno 3 metri cubi Scegliete voi quanto essere precisi più cifre mettete più siete precisi però più poi fate fatica con i calcoli quindi ci vuole un po' di coniezione. Ora ragazzi noi riusciamo adesso ad avere informazioni su C beh sì qualcosa io so ragazzi dello stato C perché e tra l'altro volevo vedere se qualcuno se ne accorgeva io dello stato C so qualcosa perché anche se la trasformazione che va da B a C non è isoterma è una trasformazione qualsiasi B e C stanno sulla stessa isoterma e quindi B e C hanno la stessa temperatura quindi la temperatura di C che si sapeva sostanzialmente si sapeva dall'inizio perché un dato era la temperatura in B quindi adesso ragazzi posso trovare il volume in C e ho già finito il mio esercizio la domanda è se B e C sono collegabili da un isoterma io comunque posso utilizzare la trasformazione isoterma allora ragazzi la risposta è sì quindi visto che B e C sono sulla stessa isoterma posso dire che la legge di Boyle quindi che Pb Vb è uguale a Pc Vc e quindi posso trovare immediatamente Vc come il prodotto tra pressione e volume in B fratto la pressione in C quindi la pressione in B vale 101.325 il volume in B vale 65 64 per 10 alla meno 3 fratto la pressione in C che è 253.312 e quindi automaticamente viene qualcosa in metri cubi uguale a 0,02625 e quindi 26,25 e 6 per 10 alla meno 3 se vuole approssimare la seconda cifra quindi viene un volume pari a 26 punto 26 per 10 alla meno 3 se invece avessi voluto utilizzare la legge Pb uguale ad nRt il volume in C sarebbe stato nRtc fratto la pressione in C e facendo i calcoli quindi 2 per 8 punto 3 1 4 per la temperatura in C che è 400 diviso la pressione in C sarebbe venuto lo stesso numero infatti mi risulta 26 virgola 256 quindi sempre poiché siamo stati precisi su abbastanza cifre ci viene ovviamente lo stesso numero per il